Si è aperto con un colore Il concerto pomeridiano sotto il porticato del Museo Diffuso della Resistenza con letture a cura della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino il Gez della Liberazione per il 25 aprile a Torino A portare i saluti istituzionali il vicepresidente del Consiglio regionale delegato al Comitato Resistenza e Costituzione che ha rappresentato all'Assemblea Legislativa anche la tradizionale fiaccolata partita da Piazza Albarello con arrivo in Piazza Castello Qui già dal pomeriggio si è esibita la Mina Frico Orchestra con il quartetto vocale Farahuala In serata lo spettacolo è proseguito con il progetto pulizio in serata lo spettacolo in serata lo spettacolo in serata lo spettacolo in serata lo spettacolo Grazie a tutti.